Mercoledì 19 marzo alle 10 inaugureremo una targa in ricordo di Giorgio Ambrosoli insieme all'Associazione Libera, al sindaco Giuliano Pisapia e a tutti i cittadini che ancora oggi vedono in Giorgio Ambrosoli un esempio. Un esempio per tutti noi. Sono Francesca Ambrosoli, figlia di Giorgio Ambrosoli e vi invito a partecipare. Grazie.